Al nonno minuto, al decimo minuto, l'Avellino passa in vantaggio e poteva esserci anche una reazione negativa, invece avete avuto una bella reazione, si è vista la squadra che si è andata in avanti, abbiamo visto che si è caricata tanto, tant'è che al 25, se non ricordo male, era il momento del rigore, che purtroppo non è andato bene. Faccio la stessa domanda che ho fatto all'allenatore, al mister, la non realizzazione del rigore, cosa vi ha causato? C'è stato un momento di sbandamento, cos'è successo? Buonasera a tutti, intanto credo che non sia successo niente, perché comunque poi dopo il rigore, se non sbaglio, ci sono stati altri tre episodi chiave, ti faccio l'esempio io, se faccio l'e-goal comunque dopo l'episodio di Mino, faccio l'1-1, capito? Io penso che nel calcio si vive gli episodi e vince alla fine la squadra che è più concreta, perché comunque penso che sul primo tempo, su quelle quattro occasioni cinque che abbiamo creato, fai quattro e cinque gol e il primo tempo finisci 5-1. Ciao Milos, Marco Zappalà per CityZone Radio Amore, ti faccio una domanda in chiave tattica, ti abbiamo rivisto oggi nel tridente offensivo come esterno, è la posizione che preferisci, che prediligi rispetto magari a quella partita in cui hai giocato in quel 3-4-2-1 in una posizione più centrale, più vicino alla prima punta? Le tue caratteristiche ti portano comunque ad andare meglio sulla fascia? Diciamo che sono sempre stato abituato a giocare in quella posizione lì, però posso dirti che anche la posizione che ho avuto nelle scorse partite, potevo sicuramente fare ancora meglio perché sei vicino alla porta e puoi essere molto più concreto. Poi ti chiedo che momento state vivendo nello spogliatoio, se siete uniti e compatti e se comunque avete grande fiducia tuttora nei confronti del tecnico? Sicuramente la fiducia nell'allenatore c'è, posso dirti che in spogliatoio siamo una squadra veramente unita, è un momento delicato, è un momento difficile per noi, credo si vedano, ma penso che andremo avanti e supereremo questo momento qua. Grazie a tutti.